alla pezioria sud di Beirut. Uno dopo l'altro i 33 minatori trapolati da oltre due mesi a 700 metri di profondità nella miniera di San José in Cile stanno tornando in superficie e questa notte è iniziata l'evacuazione e per riportare alla luce i minatori è stato scavato a tempi record un corso attraverso un passato a una capsula monoposto che sta facendo la spola tra la miniera e la superficie sulle miniera si sono accesi ai settori dei media internazionali e sono presenti oltre due miera autogiornalisti e operatori. Io vi ricordo il nostro sito www.regnus24.chi vado la parola all'estate operazioni con il segno. Grazie a te l'aria del tutto, a te l'azionismo internazionale e a te l'aria proprio della tensione degli oltre due miera autogiornalisti e operatori di Cile che seguono le fasi il salvataggio lento 1-23 minatori abbiamo seguito fino a pochi minuti fa che noi in diretta continuiamo a farlo e che vi ricordo che ci sono stati distanti che siamo in attesa di collegarci con Montio Cittorio con l'Aula della Camera dove fuck off